Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone delle azzorre ritorna a conquistare il Mediterraneo centrale, spingendo il nucleo gelido che ci ha interessati negli scorsi giorni sempre più verso est. Avremo così un netto miglioramento delle condizioni meteo che favorirà un aumento più deciso delle temperature su tutti i settori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 23 aprile. Al mattino ancora sensazione di freddo, soprattutto nelle aree interne lucane e pugliesi. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con nessun rischio di precipitazioni. Al pomeriggio maggiore nuvolosità potrà affacciarsi da ovest sui settori lucani interni e sul subappennino, ma permarranno condizioni di stabilità anche durante la sera. Le temperature risulteranno in un aumento sia nelle minime che nelle massime, raggiungendo valori più consoni al periodo. Ventilazione debole, ultimi cenni di maestrale solo sul basso salento. Mari da poco mossi a mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app telegram il canale Meteo One, Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia, che ci invia questa spettacolare foto dal verdeggiante tavolire delle Puglie, sormontato dalla magia di un coloratissimo arcobaleno. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattatici al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.